Appena l'ho vista al programma ho detto no, non è possibile che sia lei, e invece sì. Signori, il prima e dopo l'avete visto in copertina, parliamo di Suor Cristina che oggi non è più Suor Cristina. È stata ospite di verissimo Silvia Toffanin, è lì che l'ho vista, è lì che l'avrete vista, la vincitrice di The Voice of Italy, andato in onda nel 2014, ha deciso così, sì, ha preso questa decisione netta, definitiva, di togliere la veste religiosa per la sua grande passione, cioè la musica. Certo, apriamo una parentesi, avrebbe potuto cantare anche da Suora, quindi non si sa, il motivo può essere quello? Secondo me no. Secondo me ha capito che quella forse è una bellezza anche in un certo senso, possiamo dire, sprecata. Secondo me qualche ragionamento l'ha fatto, non so cosa ne pensiate voi, ma potete scriverlo qui sotto nei commenti, subito, così a inizio video. Intanto vi invito ad iscrivervi al canale YouTube o sulla pagina Facebook, seguendo la pagina oppure iscrivendosi al canale e attivare la campanella per le notifiche, mi raccomando così vi arriverà la notifica dei nuovi video. Quindi si parla di Suor Cristina che da oggi in poi sarà soltanto Cristina. Cristina Scuccia, perché ha nome e cognome, e ha deciso di togliere il velo. Oggi vive in Spagna, fa la cameriera, e dopo la vittoria al talent di Rai 2, grazie al suo talento, è stata in giro per tutto il mondo condividendo il palco con artisti, artisti belli tosti tipo Ricky Martin che cali minogue, ricevendo complimenti anche da Madonna, e a 34 anni la decisione, la forte decisione, sicuramente molto pensata, di lasciare i voti e dedicarsi alla musica. Domenica la 34enne di Vittoria, in provincia di Ragusa, è stata ospite di Verissimo per poter raccontare la sua vita. La scelta di abbandonare la vita monacale non è stata presa con leggerezza, ma è stato il frutto di un percorso complesso e difficile. Ha detto sì, è vero, adesso sono Cristina, Suor Cristina però è dentro di me. Se sono quella di oggi è anche grazie a lei, e ho trovato delle difficoltà, ma oggi ho il sorriso e credo ancora di più nella vita. Ovviamente per me Dio è ancora centrale in tutto e ci credo assolutamente. Cristina è apparsa in studio con un completo rosso, i capelli lunghi e un perfetto make-up. I social sono impazziti, dicendo subito Mamma mia, bellissima, è riconoscibile. Cristina ha ricordato la vita da Suor Cristina però, e ha detto Per me è stata un'esperienza intensa che mi ha fatto crescere. E sì, ho cambiato l'abito, ma l'essenza è sempre quella. Oggi vivo in Spagna e faccio la cameriera, e vivo vi giuro con il sorriso, assolutamente sì. Volete sapere dell'amore? Credo sempre nell'amore. Non nego che stando in giro qualcuno mi abbia corteggiato, ma al momento non è una priorità, però non direi di no a un colpo di fulmine. Sono innamorata della vita, bisogna amare se stessi e gli altri. Quindi, signori, sicuramente parte con un buon punto di partenza, questo è un buon ragionamento. Vedremo cosa succederà, sicuramente avremo occasione di riparlarne per quanto riguarda accoppiamenti vari. Sono sicuro di sì. Questo è tutto, io vi auguro una buona giornata a tutti, e noi ci sentiremo alla prossima, sempre su Pausa Caffè Live.